Ci troviamo a Bari all'Hotel Nicolaus che sarà la sede del Congresso Nazionale Sinfer 2016 che si terrà proprio qui in queste sale dal 23 ottobre al 26 ottobre prossimo. Come sapete è l'evento principale che caratterizza la parte culturale e scientifica della nostra società e questa presenza è stata preceduta da un incontro che si è svolto ieri al Policlinico con i colleghi del gruppo regionale Sinfer Puglia che sono coinvolti e sono i principali attori dell'organizzazione locale di questo congresso insieme al Presidente Pietro Fiore. L'incontro con i colleghi che abbiamo avuto il sottoscritto e il segretario Giovanni Checchia è stato molto fruttuoso ed utile perché abbiamo potuto discutere con i colleghi pugliesi le prospettive della fisiatria e della medicina fisica e riabilitativa in questa regione, le problematiche di tipo locale e di tipo nazionale e anche punti importanti che si riverbereranno sul sviluppo del congresso. In particolare la tematica della continuità ospedale territorio, la tematica delle competenze professionali specifiche del medico specialista fisiatra, la tematica del dolore che è l'altro grande topic del congresso e insieme alla tematica delle tecnologie nuove e vecchie che possono supportare l'attività del fisiatra. Stamattina qui 16 luglio ci troviamo in questa sede con Pietro Fiore, con Giovanni Checchia segretario nazionale, con Sandro Buoso vicepresidente delegato all'organizzazione dei congressi, il sottoscritto e l'addetto alla comunicazione del congresso per definire alcuni aspetti pratici e organizzativi. In particolare abbiamo sviluppato il piano di comunicazione societaria in vista del congresso e abbiamo sviluppato alcuni ulteriori punti relativi al programma scientifico che è già presente sul sito nella forma preliminare e che a brevissimo verrà rinnovato nella forma più avanzata.